eccoci sì eccoci eccoci ecco lo dicevamo della presentazione delle liste Mirko allora la presentazione delle liste è andata bene come popolo della famiglia abbiamo presentato il numero di firme necessarie a tutti i 97 collegi con record raggiunti in giro per l'italia siamo stati la lista che aveva l'adempimento di raccolta delle firme che ha raggiunto il numero di firme più alte nel collegio romagna che è il mio collegio di candidatura abbiamo fatto il record di firme per il senato quasi 2000 firme raccolte solo per il senato nel collegio emilia romagna 01 e devo dire la verità che sta perdonatemi che è stata una cosa sorprendente perché abbiamo visto migliaia e migliaia di persone in fila in coda per raccontarci la disponibilità della propria firma abbiamo fatto questa fatica ma abbiamo visto che le candidature sono state la scelta migliore che potessimo fare abbiamo cercato di mettere in prima linea persone che hanno cavalcato le due piazze dei family day primis maria di nolfi gianfranco amato il sottoscritto nicola di matteo e via discorrendo e in più persone che hanno condiviso i nostri valori a difesa e promozione di vita famiglia e libertà da quando il cammino del popolo della famiglia è nato candidando nei loro territori dove conoscono i cittadini conoscono le famiglie conoscono le persone e possono essere dei punti di riferimento interessanti e credibili per poter portare tante croci sul simbolo del popolo della famiglia alle prossime elezioni non abbiamo scelto la strada invece di apparentemente alcuni con gli schieramenti in particolare del centro-destra perché credo che ne abbiamo confermi in queste ore basta sentire matteo salvini che dice sia le unioni civili sia il testamento biologico che candida come capolista al senato giulia buongiorno e la propone come ministro della giustizia che è assolutamente a favore a queste due legislazioni perché dimostra di essere uno schieramento incoerente e non credibile abbiamo già visto il camaleontismo del centro-destra negli ultimi vent'anni ed è per noi una pagina chiusa in lombardia vostro presidente candidato presidente chi è il nostro in lombardia al momento noi siamo in trattativa per quanto riguarda la definizione della lista alle regionali non abbiamo ancora espresso una posizione ufficiale per quanto riguarda le competizioni alle regionali perché la nostra priorità al momento sono le politiche siamo un partito nato da un anno e otto mesi e di conseguenza abbiamo già fatto la fatica mastodontica di presentarci in tutti i 97 collegi abbiamo dato priorità a questo nelle prossime settimane avrete anche comunicazione su come ci comporteremo alle regionali e invece in lazio che è una delle regioni in birico secondo me nel lazio abbiamo deciso di appoggiare la candidatura di Pirozzi come candidatura civica fuori degli schieramenti ci saranno due rappresentanti del popolo della famiglia dentro la lista regionale di Pirozzi credo che è una scelta intelligente ripeto di un movimento che gioca tutta la sua avventura politica di quest'anno nelle competizioni punto nazionali e che quindi a livello regionale ha scelto di dare una mano a un personaggio politico che ha segnato la storia della terra naziale nel corso degli ultimi due anni soprattutto dopo le vicende del terremoto con intelligenza audacia coraggio fuori dai partiti e che ha deciso pur avendo la contrarietà di quello schieramento che l'aveva appoggiato alle amministrative del centro-destra di continuare a competere perché crede di poter avere le carte in regola per essere un'alternativa di bene per la regione Lazio per questo lo appoggiamo con lo stesso spirito che contraddistingue il popolo della famiglia fuori dagli schieramenti a schiena dritta su quei valori che sono la piattaforma di riferimento del nostro programma politico va bene per adesso ci fermiamo qui grazie grazie buona giornata grazie a tutto giuseppe crizeo va a essere presso